musica 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 toris passaggio malattro musica 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 music 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 un'ora di gara sette chilometri e mezzo quasi bastoncini fuori uso sono incastrati se è spezzata la punta non fa niente sono solo un aiuto non è quello che mi serve per fare il tempo obiettivo di oggi 4 ore e 30 faccio il possibile realisticamente sei ore vediamo cosa succede torx 30 chilometri 2400 metri di dislivello c'è il nostro primo obiettivo cancello orario 12 00 ciao temperatura ottima rifugio frassati un'ora e 38 ci siamo quasi rifugio frassati adesso devo decidere se mettere l'antivento se far solo la pipì sicuramente devo sistemare la scarpa cominciamo con i bisogni primari pipì dai non sta girando tutto benissimo ma sono ancora ottimista per il momento dai devo arrivare la sopra in mezzo alla nebbia sono arrivato da la sotto in mezzo alla nebbia una nebbia unica va bene va bene dai 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 ci si avvicina al col d'umalatra l'antivento indossato perché c'è un po' di aria fresca ho faticato ma vado bene beccato non Guarda, ci dice che siamo vicini al passaggio, adesso metto i bastoncini, però peccato non vedere qua sotto Scusate, eccoci Ci siamo, ci siamo E ora giù, chi se ne frega Qualche cece I bastoncini, ho tolto l'antivento E questo è il panorama Discesa accettabile, devo cercare di andare rilassato e non frenare troppo Dai, dai, dai Fai andare la campana Allora, ventiduesimo chilometro, sta andando bene, adesso il fondo comincia a diventare un po' scivoloso Finchè in salita tutto sommato va bene, vedremo la discesa Bisognerà fare parecchia Attenzione Bello Fino adesso Sono soddisfatto Il tempo non è dei migliori Però Se riuscite a vedere Se riuscite a vedere Ok, però Bello, dai Qui vedo uno scollinamento Provo a correre Vediamo come L'ha tenuta Questo dovrebbe essere un po' mangiabevi Ci provo, dai A dopo Ale, ale, ale Belli Eccolo qua Questo è il trucco per fare 330 km Altro che ristoro Guarda qui Che spettacolo Il pettoralato è lui Siete grandi Io ristoro qua Questi sono gli amici che bisogna incontrare lungo i sentieri Grandi Bravissimi 5 km Tutti discesi Vediamo un po' come va L'ha tol 25 Quattro ore e mezzo Vediamo se riusciamo a stare Entro le cinque ore Ci provo, dai Via Grazie Grazie Bravo Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.